Ciao a tutti, sono Carlo Selane, leggerò una poesia da volume Spoglia 2 di Federico del Signori. Dio mede, mi chieserò che hai fatto, quello che faccio è battermi, non è affar mio e nemmeno il sorriso che mi becca il volto. Dirò che è una dea a concedermi di farle da bipenne, spada e scudo. Ella è casta e feroce, ne ride le mie ferite, graffia le mano, aste nello stomaco non cambia, mi solleva dalla morte, per i lunghi capelli mi tiene finché reggerà la chioma e il corpo armato, com'è dura farsi lievi.